Salve a tutti e ben tornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere il problema riguardo al disco corrotto oppure è illegibile quindi in questo caso l'errore è questo, che l'accesso è negato al tuo disco, che non funziona, che non riesci neanche a vedere lo spazio, proprio questa linea blu sul disco è proprio bloccato, vedi solo questo e basta, non vedi più niente quindi in questo caso questo metodo funziona sia sui dischi, a dischi esterni e chiavette USB e ovviamente per risolvere questo problema in descrizione ti ho lasciato questo comando da aggiungere su CMD quindi tu scrivi CMD qua sopra, esegui questo ok, facciamo esegui come amministratore, ovviamente questi sono i nostri dischi io adesso farò una prova su una chiavetta USB per non danneggiare il mio disco, perché il mio disco funziona perfettamente se a te proprio non va proprio, non funziona, quindi tu fai questo procedimento quindi tu vai a scrivere CHKDSK per fare un riavvio del disco e poi una volta fatto riavvii così il tuo sistema operativo spazio, ora metti la lettera del tuo disco, quindi disco locale C dove tieni il tuo sistema operativo volume D, un disco così, o un SSD, un M2 o una chiavetta USB quindi io adesso vado a mettere la mia chiavetta USB due puntini, questi due puntini così spazio, slash e poi fai F e fai invio il file sistema di tipo fa 32, fatto così il riavvio del disco quindi puoi farlo direttamente anche su un disco che hai nel tuo PC quindi o volume D o volume E o volume C e una volta fatto chiudi qua e riavvii il tuo sistema e hai fatto oppure se non dovesse funzionare vai di nuovo a scrivere CMD esegui come amministratore e vai a scrivere di nuovo CHKDSK spazio, slash F, spazio, metti la tua lettera e i due puntini e fai invio uscirà la stessa cosa dell'altro metodo solo che le due lettere qua sono invertite e poi se non dovesse funzionare oppure a te di esce in un altro modo per esempio in questo modo tipo che ti esce la Y, slash N che vuol dire procedi al riavvio del disco oppure non procedere tu premi Y farà così il procedimento e farà così anche un riavvio al disco una volta fatto chiudi tutto qua e riavvia il tuo sistema quindi mi raccomando metti la lettera del tuo disco che vuoi riparare quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao